centri estetici e parrucchieri chiusi la quarantena si è trasformata in un vero e proprio incubo per tanti soprattutto per le donne di spettacolo ma c'è anche chi sa fare ironia su questa situazione è il caso di vanessa incontrada che invece di usare filtri per provare a camuffare gli effetti del lockdown sul proprio aspetto fisico ha deciso di mostrarsi versione nature sul social e scherzarci su scusate non mi avvicino troppo perché c'è sono una roba non so voi ma io ho i capelli bianchi tutto crespo la ricrescita i baffi anche se non mi si vedono più di tanto ma ci sono le ciglia che è brutta 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 vanessa lo aveva già detto qualche tempo fa la perfezione non esiste ma l'importante è stare bene nel proprio corpo parole ancora più vere di questi tempi